Ciao a tutti sposi e benvenuti nel mio canale. Io sono Fabrizio e sono un Wedding Music Planner. In che senso? Un Wedding Music Planner è un professionista in grado di pianificare e gestire tutti i momenti musicali e di intrattenimento del matrimonio, per rendere il vostro evento il più possibile elegante ma anche divertente. Quindi sei un cantante per matrimonio. No, un cantante si limiterà ad eseguire dei brani, potrà interagire col pubblico attraverso il microfono, ma qualora dovesse creare dei momenti di animazione o fare dei balli di gruppo non sarebbe quella la sua specialità. Perciò sei un animatore per matrimonio. No, un animatore sarà in grado di organizzare dei giochi, saprà fare dei balli di gruppo o della baby dance con i bimbi, ma qualora dovesse cantare o dovesse gestire un DJ set, per esempio dopo il taglio della torta, non sarebbe quella la sua specialità. Perciò sei un DJ per matrimonio. No, un DJ sarà in grado di mixare, ma non saprà interagire in maniera efficace con gli ospiti ed è per questo che i DJ di solito sono affiancati da una seconda figura, il vocalist. Arriva il vocalist. Un wedding music planner, dopo aver pianificato con voi il vostro matrimonio, saprà adattarsi a tempo zero ad ogni tipo di pubblico. Per questo deve essere un cantante, un animatore, ma anche un DJ. Sarà poi la sua esperienza che gli permetterà di dosare queste capacità all'interno della giornata per far divertire tutti, dal bambino al più anziano. Perché, diciamocelo, i vostri ospiti vorranno ammirare il vestito della sposa, mangiare bene, ma soprattutto divertirsi. Sì, ok, anche bere gratis. Ah, dimenticavo, un wedding music planner che si rispetti conosce il dress code per un evento così importante come il vostro matrimonio e non si presenterà quindi vestito come un supporter della propria band preferita al Gods of Metal. Per quanto sia fighissimo e divertente. Saprà guidarvi in tutte le fasi dell'intrattenimento, suggerendo video originali, ad esempio per il primo ballo degli sposi, o proponendovi delle alternative divertenti per il lancio del bouquet o ancora aiutarmi nella scelta di un brano per rendere emozionante il momento del ballo con i genitori. Ma ricordate però, senza mai imporvi la sua idea. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Un bravo professionista deve sapere adattarsi agli sposi, e non il contrario. In ultimo, il suo rapporto qualità-prezzo dovrà essere ottimo. Questo è il mio lavoro, costruire insieme a voi un intrattenimento migliore per il giorno del vostro matrimonio. Se il video ti è piaciuto, pollice su, e non dimenticare di iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Prossimamente, infatti, vi porterò con me a qualche matrimonio, ma anche in studio, dove risponderò alle domande più frequenti degli sposi, come ad esempio quanto costa la SIAE, chi la deve pagare, quanto costa un buon intrattenimento, e così via. Ciao, ci vediamo al vostro matrimonio!